ragazzi ho trovato una teglia antiaderente in alluminio rivestito il massimo dell'antiaderenza di barazzoni e ci preparo la mia mille foglie di pomodori zucchine fiori di zucca basilico e feta dunque tagliamo le verdure a fette sottili poi iniziamo a preparare la nostra mille foglie messa in questa teglia con un filo di olio poco 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 mi raccomando la cosa che serve è il liquido che produrrà il pomodoro nella teglia e quello servirà per cuocere la mille foglie di zucchine pomodori fiori di zucca feta e un pizzico di sale ma poco mi raccomando come si cuoce a 190 gradi per i primi 20 minuti coperta questa teglia con un foglio di carta di alluminio trascorsi 20 minuti via la carta di alluminio e continuiamo a completare la cottura fino a 45 minuti la teglia di mille foglie di zucchine pomodori fiori di zucca e feta è bella e pronta davvero ci vuole poco questa teglia leggera e maneggevole è perfetta per portare in tavolo un piatto leggerissimo ragazzi non mi resta che dirvi buon appetito